bentornati col dito alla federico chiesa che indica che guarda in su bentornati a tutti ragazzi ciao buon venerdì oggi venerdì post partita oggi venerdì in realtà è importante anche perché si capirà qualcosa di più legato al discorso plus valenze se verrà riaperto il processo se verrà definitivamente archiviato se la juventus dovrà affrontare una nuova battaglia anche su questo fronte o se verrà confermata la sentenza di aprile dove la juventus era stata considerata innocente ed era stata prosciolta insieme a tanti altri club di serie a quindi attendiamo fiduciosi oggi vediamo che cosa ne salta fuori e poi dopo eventualmente commenteremo ma oggi siamo qui per le pagelle di juventus monza una partita molto tirata una partita più combattuta del previsto infatti come vi dicevo anche ieri sera non mi aspettavo così tanta fatica nel fronteggiare un monza che per quanto mi riguarda ha fatto la sua partita ci ha anche messo sotto a tratti nel secondo tempo e poi quel gioiellino di federico chiesa l'ha risolta al meglio io vi chiedo come al solito un mi piace a questo video un commento voglio sapere anche un po le vostre pagelle perché sono alcuni voti in realtà dove ho avuto un po di difficoltà secondo me non è una partita facile da analizzare nei singoli e niente ci vediamo oggi pomeriggio eventualmente per un nuovo video non ho non so ancora se volervi portare una determinata analisi di alcuni momenti della gara proprio dal punto di vista tecnico o se parlare eventualmente delle plus valenze se ci saranno novità quindi seguite il canale per eventuali aggiornamenti allegri barranducci voto 6 allora in realtà mi piacerebbe dare un 5 e mezzo sono sincero perché quello che ho visto ieri sera non mi ha garbato non mi è piaciuto mi aspettavo più che altro una risposta mentale differente da parte della squadra dopo la brutta sconfitta di napoli invece si è continuati un po sulla falsa riga di quello che era il mood delle prestazioni e anche l'atteggiamento di squadra delle vittorie consecutive fatta eccezione per le partite contro inter e napoli dove secondo me mi è dato qualcosina in più anche se anche quella con l'inter ovviamente nel primo tempo si potevano prendere dei gol e non si sono presi per fortuna non mezzo voto in più perché c'erano ben 4 4 e non sono pochi giocatori del settore giovanile prodotti del vivaio della juventus in campo healing sulle fagioli emiretti più un quinto che è gatti che è la prima stagione in serie a quindi 5 5 giocatori su 11 in totale alla prima esperienza in serie a che è un po il discorso che io sto continuando a fare ho fatto anche un articolo sul numero 10 se non l'avete letto andatevelo a leggere ma ragazzi è inutile continuare a dire i giovani qui e là certo sono la prima esperienza in serie a quindi sicuramente non possono essere attrezzati come altri giocatori non possono essere esperti come altri giocatori e ma se sono forti giocano e questi sono forti cioè averli in campo e non averli in campo la juventus ti fa la stessa partita o quasi cambia magari qualcosa tecnicamente qualcosa atleticamente questi giocatori sono pronti magari non tutti magari non per essere titolari rimovibili non per trascinare la juve ma per essere nella prima squadra della juve di questa juve in questo campionato di serie a in queste partite in questa competizione come la coppa italia soprattutto dopo l'uscita di milano e napoli questi sono pronti solo ieri sera portava in giro il monza fagioli tocca dei palloni che sono allucinanti healing a livello fisico con quegli scatti e quella palla sul piede e quella corsa non ha tanto da invidiare ad altri giocatori l'unico che secondo me è stato un po sottotono è stato miretti ieri sera tra questi quattro del settore giovanile e però mi sembra un giocatore pronto anche lui in questo momento con delle cose da risolvere qui dentro ma è inutile dire che finché giocano i giovani la juve non sarà vincente la juve può vincere la coppa italia sì probabilmente l'unico trofeo che può vincere il livello della coppa italia l'altezza della juve sì per me la juve ha la rosa migliore in italia quindi potrebbe vincere pur la serie a e potrebbe vincerla anche facendo giocare giovani secondo me sì secondo me sì in questo momento no però vi ragioni perché il napoli è scappato se avessimo vinto al san paolo l'ultima partita al maradona l'ultima partita giocata eravamo a meno 4 campionato aperto e l'evento si è giocato con i giovani quindi è quella partita lì che ti fa dire che si può vincere con i giovani e senza i giovani no quella partita lì che ti fa dire che oggi non puoi vincere perché non l'hai vinta in quella partita lì è mancato anche l'apporto di fagioli io non me la sento perché sto continuando a leggere commenti che vanno in quella direzione di dire non me la sento assolutamente di dire e se facciamo giocare questi qua allora va bene facciamo giocare però non si vince ma perché ma dove sta scritto c'è una regola se c'è un regolamento nel gioco del calcio che dice va bene però se mi fai giocare non vince allora io mi arrendo all'evidenza se devo guardare il campo vi dico che a me ieri non è assolutamente sembrata una partita dove da una parte c'erano cinque esordienti in serie a cinque cinque esordienti in serie a al primo anno non mi è sembrata poi certo il monza non è promossa mi sembra che palladino abbia dato una bella sistemata al monza che sia una squadra che sa cosa fare con il pallone tra i piedi che segue uno spartito anche nei minuti finali quando era sotto ordinata tranquilla serena quindi secondo me è stato un ottimo test per questi ragazzi poi è ovvio che sono il primo a dire che la prossima partita ai quarti con l'alazio schierarli tutti probabilmente in azzardo ma un paio secondo me ci possono giocare tranquillo ma tranquillamente e si può fare comunque un risultato e si può comunque vincere quindi quel mezzo voto in più va semplicemente a quello perché la partita in realtà non mi ha garbato tanto ci sono state alcune cose che non mi sono piaciute per in voto 6 qualcuno mi ha detto colpevole sul gol ma secondo me no quel pallone non deve passare mai nella vita per in poi che cosa può fare l'impatto è arrivato il giocatore taglia sul primo palo in velocità non lo può prendere mai rugani voto 6 o rugani a me è piaciuto come era piaciuto mi pare con l'udinese in quella posizione lì solo ha fatto zitto lavorare testa bassa problema di rugani sempre quello lo stipendio per essere il quarto quinto difensore centrale a rosola juventus forse addirittura sesto in questo momento dato che consideriamo anche danilo alexandro come centrali non può mai prendere nella vita qui tre milioni e mezzo di euro netti e quindi il problema è tutto lì rugani però quando viene chiamato in causa tra l'altro non sempre di rado in queste partite qui queste prestazioni qua lui te le tira fuori anche da giocatore come centrale di rifesa del terzetto che mai avrei immaginato di vedere quindi niente da dire bravo poche sbavature tanta tranquillità mi ha dato tranquillità ieri sera rugani davvero gatti 6 quando parte progressione testa bassa a barzagli questo non lo prendi perché c'è una fisicità importante gatti secondo me è un giocatore molto grezzo di piedi ieri invece qualcuno diceva che secondo lui gatti anche dei buoni piedi io non glielo ancora visti ha tantissime caratteristiche che mi piacciono ma i piedi proprio mi sembra l'ultima cosa anzi la prima cosa da sistemare però dei colpi ha dei colpi anche fisicamente un giocatore molto molto importante secondo me gatti e ribadisco è alla prima stagione in serie a più che altro purtroppo ci è arrivato tardi perché un 98 quindi non è più giovanissimo è giovane ma non è un giocatore che può pensare di fare la prima stagione in serie a il 98 lui ha avuto un percorso strano particolare una storia molto affascinante quindi purtroppo c'è anche quella cosa da sottolineare e da prendere in considerazione però secondo me gatti sta facendo tutto sommato una prima buona stagione in serie a con la maglia della juve perché sembra una roba facile una roba semplice ma se fino a questa età non ci sei mai arrivato in serie a probabilmente perché in tanti dicevano che ti mancava qualcosa pensavano potesse mancarti qualcosa questa la prima stagione in serie a fa con la maglia della juve se vuoi sembra una cosa facile a me sembra una cosa difficile sei mezzo a danilo che dei tre è stato indubbiamente il migliore lì dietro un paio di anticipi fatti bene poi si sganciava per andare ad accompagnare l'azione che sono cose molto belle che vedo fare a danilo in questa stagione lui e bremer le fanno particolarmente bene quindi questi due difensori che in un terzetto difensivo possono trasformare l'azione da difensivo ad offensiva più quel pallone meraviglioso dato a moise che anche purtroppo non si è concretizzato non si è trasformato in gol ma danilo c'è sempre anima juventus sei mezzo a mckenny perché secondo me mckenny ha fatto una buona partita cioè il voto era anche sette ha saltato spesso l'uomo spesso volentieri poi probabilmente doveva darla via in un paio d'occasioni però tante volte in dribbling tante volte addirittura in velocità riusciva a saltare l'uomo poi quel cross per ken per il gol dell'1 a 0 un'azione magnifica però mannaggia te weston su quel palo non possiamo prendere gol il gol del monza su calcio d'angolo perché sbaglia a saltare perché stiamo marcando benio male a zona tutti e se quella palla passa e se tu non la pigli di testa un errore veramente banale banalissimo per una squadra di serie a e dopo tutti gli altri a domino effetto domino paredes non può seguire il marcatore per il non può marcarla gatti e ken sono lì la palla è già passata quindi mckenny indispensabile su quel palo lì perché comunque un buon colpitore dopo tutti gli altri pali è stato bene attento in realtà anche il monza ha tirato un paio di palle basse lui ha risposto presente ma quell'errore pesa e secondo me fa tirare un po giù la valutazione che ripeto è una partita che secondo me mckenny ha fatto comunque bene poi quando passiamo 4 2 3 1 rivederlo ancora largo mi dispiace perché mckenny per me delle caratteristiche molto importanti di inserimento senza palla e micidiale anche nel colpire nell'impattare la palla proprio sull'inserimento quindi non il tiro dalla distanza non la tecnica però delle caratteristiche importanti che tante volte andiamo a sacrificare in favore semplicemente di una fase di copertura da parte di mckenny quando potrebbe dare probabilmente molto di più però questo è però secondo me mckenny ieri ha fatto una buona partita 6 e mezzo 5 più a paredes perché probabilmente 5 sarebbe stato troppo poco ma 5 e mezzo troppo troppo paredes lui si esalta nella garra quando alla fine c'era da andare a discutere con izzo pronti via presente eccomi qua tutto il resto della partita ho sempre l'impressione che uno come lui possa dare dieci volte tanto mi sembra di guardare sempre la moviola sempre sempre la moviola e poi ogni tanto c'ha quei due tre gesti tecnici ma proprio tecnici perché c'ha due piedi meravigliosi e che ti fanno dire ma perché non sei continuo perché non dai continuità di rendimento all'interno della partita soprattutto davvero non sei titolare hai la possibilità di scalare le gerarchie e mi fai sta prestazione non riesco neanche a giudicare non riesco neanche a capire sembra semplicemente accontentarsi mi dà l'impressione che gli vada bene sempre e no non sei titolare non sei della juve non ti ha riscattato dai di più quello è il 100 per cento che puoi dare dal 200 perché quello non può essere il 100 magari è l'impressione di dare il 100 ma devi dare il 200 se no non riusciamo da questa situazione perché uno come paredes può cambiare il volto della juve da così a così però non lo sta facendo e questo deve venire da lui c'è poco da fare miretti 5 e mezzo ripeto è quello che mi è piaciuto di meno dei ragazzi del settore giovanile della juventus però miretti mi dà sempre l'impressione di essere un giocatore che può farlo non perché non voglia a differenza di paredes ma perché in questo momento non ci riesce perché è stato bloccato qui a livello mentale ma è un 2003 è un 2003 e miretti sta bruciando le tappe sta facendo una marea di presenze nelle juve prima squadra io credo che miretti possa essere assolutamente soddisfatto nel suo percorso ma non deve accontentarsi deve dire ok adesso è ora di iniziare veramente decidere le partite con un assist con una giocata con un gol miretti ieri ha fatto una copertura preventiva bellissima ha fatto un recupero bellissimo quindi quando non ha la palla in questo momento mi dà l'impressione di saperci fare quando ha la palla mi sembra un po bloccato a livello mentale è qua è qua lo step che devi migliorare qui che devi fare il passo in avanti perché perché giochi nella juventus e se giochi nella juventus devi avere delle abiezioni più alte è tutto qui so che sembra una stronzata sembra una frase fatta ma questo è la juventus è una cosa diversa fagioli 6 e mezzo ha mangiato quel gol all'inizio perché se l'è mangiato anche se al volo non era così semplice ecco però fagioli mi dà proprio l'impressione con la palla tra i piedi di poter fare quello che vuole cioè se ci fosse la possibilità di scommettere 100 euro che quella palla me la mette lì io 100 euro su fagioli li metto perché quella palla me la mette lì gestione sempre intelligente sempre visione di gioco altissima non è un giocatore davanti alla difesa è un giocatore che può giocare sulla mezzala e addirittura sulla tre quarti per movenze esagero è l'unico giocatore che mi viene in mente per movenze e non per livello per movenze per come tocca la palla e per come interpreta la partita e modric mi sembra vedere un modric in miniatura e anche al volo quelle aperture che aveva fatto anche a cambiare gioco ti viene proprio da dire sto piedino qua sto piedino qua poi magari gli manca il tap in semplice da fuori area con quel tiro al volo ma è sempre stata una cosa diversa fare golle e girare il pallone da sempre il gioco al calcio sono due cose differenti può migliorare anche lì può migliorare anche lì ed è una gran fortuna e soprattutto è una gran fortuna che la juventus questo ragazzo l'abbia già rinnovato e l'abbia trattenuto all'interno della rosa perché in questo momento mi sembra un giocatore che non può uscire non può uscire dal centrocampo titolare della juve non può farlo perché ha caratteristiche uniche di gestione di visione di palleggio di apertura caratteristiche uniche con Locatelli e Rabiot è inutile girare intorno il centrocampo il centrocampo è quello lì fine e addirittura in questo momento vi dico allora va bene con McKennie esterno se non c'è nessun altro se Quadrado non c'è se non andiamo sul mercato se avrà bene non facciamo giocare va bene però allora Fagioli non può uscire facciamo questo compromesso compromesso che non mi piace facciamolo ma Fagioli non esce Fagioli deve giocare il link 6.5 sto ragazzo ha delle qualità anche lui classe 2003 no perché ogni tanto sembra che io non credo possa fare il terzino perché non è nemmeno un esterno da 3-5-2 non lo è è un giocatore più offensivo è un giocatore che attacca la porta è un giocatore che vuole che sente andare sul fondo giocatore che vuole risolverla con la giocata finale ok anche quando si accentra e tira è perché lui comunque la vuole risolvere è un giocatore che vuole andare in avanti quindi anche nel 3-5-2 probabilmente un po' sprecato però secondo me si è adattato molto bene la sua partita la fa molto bene in quella posizione lì e soprattutto c'è una falcata che che in pochi hanno e quindi il vice Kostic perfetto è Eling perché hanno caratteristiche differenti perché Kostic è un giocatore diverso da Eling non ha la sua velocità è molto più tecnico però immaginatevi il terzino destro che per tutta la partita marca Kostic e un certo punto entra Eling e se magari gli ha marcato il cross fino adesso stavolta devi pensare che questo va sul fondo o taglia dentro diventa un'opzione molto molto interessante quindi ripeto terzini sia Eling che Kostic io non ce li vedo proprio no secondo me l'unico terzino sinistro della Juventus nella rosa è Alessandro ed eventualmente adattabile Danilo però Eling è un'opzione molto 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 forte Sule questo ragazzo e lo sapete ci sono i video dell'anno scorso non mi aveva mai detto chissà che cosa nelle altre apparizioni io sono fatto così non è che se gioca un giovane allora io lo devo esaltare perché ha giocato il giovane se mi piace ve lo dico se non mi piace ve lo dico semplicissimo e l'anno scorso non mi aveva mai dato la sensazione in quelle poche volte che l'avevamo visto di avere qualcosa di speciale quest'anno invece che lo stiamo vedendo un po' di più un pelo di più mi sta dando delle grosse vibes grosse vibes e ancora non l'abbiamo visto probabilmente nel suo ruolo naturale che è quello di esterno a destra in attacco a tre che è un po' la posizione che preferisce anche di Maria questo ragazzo ha delle qualità delle potenzialità quando poi va a scambiare con fagioli sulla tre quarti a destra come in occasione del gol il gol lo confezionano queste due poi bellissimo cross di McKennie bellissimo colpo di testa di Ken bellissimi tutti e due ma perché ci si arriva in quella posizione perché Sule da quella palla e quella palla gliela da perché c'è quello scambio con fagioli io non vorrei mai ma proprio mai che si iniziasse a dare per scontato che questi calciatori qui come Sule come di Maria come di Bala sono giocatori come gli altri perché questo tipo di giocatore non sarà mai come gli altri sarà sempre un giocatore diverso perché è il classico numero 10 della squadra un ruolo che in questo momento probabilmente sta cadendo sempre più in disuso perché semplicemente se oggi hai un giocatore che comunque tra le linee gioca bene lo metti esterno destra come dicevo prima probabilmente anche sulle rende meglio in quella posizione ma questo ha veramente la capacità di fare impazzire gli avversari tra le linee perché non sai mai se deve uscire del centrale se deve uscire del centrocampista e se aggiungi che può creare superiorità numerica non solo con la confusione ma anche con la tecnica e con la giocata beh la juventus si sta coccolando e crescendo in casa un giocatore molto interessante molto interessante che secondo me è ancora poco incisivo ma che sta diventando sempre più consapevole dei suoi mezzi anche quello scambio che va a fare con ken e quel tiro in porta quelle personalità cazzo tira in porta bravo non scegliere sempre la giocata facile ogni tanto pensa anche quella più difficile anzi prova quella più difficile perché pensare la pensa sono sicuro che che lui possa pensare a giocata più difficile ma solo in pochi possono farla e se la prova significa che ha fiducia nelle sue capacità che vuole emergere bravo matti bravo bravo sei mezzo a ken un gol l'ha fatto quello del 1 a 0 un gol gli hanno annullato per fuori gioco poi anche lì ho letto che c'erano discussioni forse non era fuori gioco fa lo stesso è andata bene perfetto così e uno l'ha sbagliato quello di danilo tanto movimento o secondo me che in questo momento comunque sta bene fisicamente fatemi meraviglia vederlo anche abbastanza poco in realtà rispetto a quanto avevamo visto nel fine 2022 anche nelle scelte magari da parte dell'allenatore a partite in corso può essere un'arma molto molto forte perché se proprio faccio il campo con le figurine dei calciatori nella rosa juventus ken non mi viene a metterlo titolare però nelle ultime sei partite la titolare ha fatto cinque gol e questo è un dato quando parte impatta molto bene deve iniziare ad essere determinante anche a partite in corso e pesante con dei gol come ha fatto l'anno scorso a reggio emilia locatelli 5 e mezzo perché quando è entrato non mi è piaciuto tantissimo e io sono davvero convinto che locatelli possa dare più di così e quindi forza loca giocato una mezz'oretta in quella mezz'oretta secondo me poteva dare di più e fare meglio io qua vi ho messo questo poi ripeto se ci sarà un video simile nel pomeriggio la torneremo ad analizzare ma questo è il gol di chiesa il gol di chiesa nasce così minuto 77 0 3 chiesa lì lo vedete quella macchia rosa a sinistra col pallone tra i piedi al minuto 77 e 10 chiesa fa gol quindi due parte salta suo marcatore lo salta di netto viene trascinato dal suo marcatore due volte triata la maglia lui sta su e salta altri due col movimento di corpo se la porta sul destro si accentra tira fil di palo palo gol gol identico nell'esecuzione a quello che aveva assegnato con la spagna all'europeo decisamente più complicato perché ripeto guardate da due parti questo cosa posso dire cioè che altro posso fatela voi appaggiare di chiesa io vi dico io gli do 7 e 7 forse anche poco però ovviamente ha giocato anche abbastanza poco io una sola cosa dico che è quello che dicevo prima certi giocatori non li puoi pesare uguale a quegli altri hanno un impatto un peso specifico differente prima vi dicevo fagioli non può più uscire perché non può più uscire se giochiamo 3 5 2 chiesa non mi può fare mai nella vita l'esterno destro in questo 3 5 2 mai nella vita delle due 100 per cento mccanny che un po quello che dicevo con napoli qualcuno c'è rimasto male mi diceva ma perché dice che chiesa non doveva giocare perché chiesa lì lo perdi chiesa lì non impatta chiesa delle caratteristiche importanti che parta da destra che parta da sinistra non mi importa ma deve giocare in funzione della porta avversaria non può preoccuparsi di inseguire gli avversari quindi se 3 5 2 chiesa o mi gioca davanti in questo 3 5 2 o non mi gioca e diventa il giocatore che entrando mi cambia la partita non un titolare d'accordo facciamo così romeo agresti è sempre stato nel partito chiesa più altre 10 sottoscrivo ma in questo 3 5 2 probabilmente le caratteristiche di chiesa non sono implementabili al meglio al meglio perché comunque può giocare a destra può giocare a sinistra può giocare davanti però siccome perde tanto è l'unico ruolo davvero concreto in cui chiesa lo può inserire in questo 3 5 2 davanti per fargli attaccare la porta e non fargli perdere l'idea di andare a fare gol e far male agli avversari se no o fai un 3 4 3 in cui chiesa può partire da destra o sinistra e risolvertela probabilmente più da sinistra perché da destra comunque hai più giocatori come di maria sulle bla 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 se no cambi modulo e e torni al 4 2 3 1 o al 4 3 3 adesso che è tornato a chiesa devi fare dei ragionamenti bisogna capire cosa fare con chiesa in questo momento non è titolare va bene non è titolare però quando entra poi me lo devi mettere nella condizione di partire dove gli para lui per andare ad attaccare la porta questo il ragionamento mi dispiacerebbe non vederlo titolare io credo che la juventus debba cercare di capire come aggiustare come rimanere concreta compatta ordinata come ha fatto col 3 5 2 in questi ultimi mesi ma allo stesso tempo dare la possibilità anche a chiesa di sprigiorare il suo potenziale ripeto secondo me 3 4 2 1 3 4 3 che dir si voglia è la migliore poi capisco che anche sacrificare un centrocampista perché fagioli lucatelli rabiù paredes miretti adesso ti torna pogba mckenny stesso sono tanti però chiesa chiesa la differenza la fa punto stop è utile girarci intorno 5 e mezzo da alexandro che anche quando è entrato madonna sembrava un pesce fuori d'acqua ogni tanto sembra che quando lo metti terzino sinistro disimpari completamente le regole del calcio e basile del calcio invece quando lo metti centrale difesa 3 lì vado bene ci sono stati due palloni allucinanti ieri sera uno di paredes che da destra va verso sinistra completamente a caso mi sembrava artur contro il benevento meno male che non c'era alfonso gaik nei paraggi pallone assurdo che mette in difficoltà gli avversari quello di alexandro che da sinistra verso destra invece la mette in calcio d'angolo da solo cioè due giocate che le guardi e dici beh cosa stiamo facendo ma perché le stiamo facendo però che vi devo dire ciao alex di maria 6 6 perché se fa quel gol di rabona viene giù lo stadio non l'ha fatto e mi ha fatto mangiare le unghie fino a qua quindi l'impatto di maria la qualità che dà di maria lo scopriamo certo oggi però adesso prima parlavamo del discorso chiesa titolare non titolare io credo che arrivati a gennaio arrivati a gennaio anzi siamo ormai a fine gennaio quindi praticamente a febbraio una squadra debba avere un'idea certo questi non ci sono stati però adesso stanno tornando ci sono magari non hanno i 90 minuti magari ne hanno 60 va bene nel giro di altre due settimane arriviamo a 70 80 per oggi né chiesa né di maria sono titolari ma non perché 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 tante volte li mettiamo dentro nel finale per ribaltare la partita e questa cosa funziona però a me piacerebbe in realtà ve lo dico proprio tranquillamente sono i giocatori che dovrebbero trascinarci averceli titolari bisogna capire come incastrarla questa juve adesso perché i rientri di tutti questi giocatori adesso devono per forza di cose evolvere quello che è stato fino adesso senza questi giocatori vediamo che cosa si inventa l'allenatore dai vediamo cosa si inventa Allegri queste sono un po' le pagelle quindi fatemi sapere anche un po' la vostra qui sotto nei commenti anche a proposito di questa discussione sul modulo e fatemi sapere anche se avete letto i vari articoli e avete visto i vari video che ho scaricato sul numero 10 e niente noi ci vediamo nel pomeriggio ciao ragazzi